Ed è stato restituito ai fedeli il dipinto su tela del Santissimo Salvatore custodito nell'omonimo santuario di Andria, gestito dai padri Deoniani. Il lavoro di restauro è stato molto lungo, complesso e delicato. Sentite. Non è andata delusa l'attesa per la scopertura della storica tela che ritrae il Santissimo Salvatore sofferente, legato ad una colonna, all'interno del santuario del Santissimo Salvatore di Andria. I padri Deoniani che gestiscono il santuario hanno accolto il dipinto al termine dei lavori di restauro affidati al prestigioso Studio d'Arte e Restauro di Valerio Iaccarino e Giuseppe Zingaro. La cerimonia di scopertura è stata celebrata nel corso della Messa Vespertina di Natale alla presenza del Vescovo di Andria, Monsignor Luigi Manzi, e del Rettore del Santuario, Padre Francesco Mazzotta. Si è trattato di un lavoro di recupero complesso e delicato che ha consentito di portare all'antico splendore questo dipinto su tela databile tra il XVI e il XVII secolo e che raffigura il Cristo flagellato, legato ad una colonna, con la corona di spine e con il capestro del condannato al collo. L'opera è collocata nell'omonima cappella. Il dipinto è stato restaurato più volte nel corso dei secoli, l'ultimo risaliva al 1953, a cura di Vittorio Federici dei Musei Vaticani. Si tratta dunque del secondo restauro importante di un'opera all'interno del santuario nel corso del 2020. I primi lavori, infatti, hanno riguardato l'altrettanto storico affresco della Madonna di Trimoggia, che aveva dato il nome alla comunità che abitava l'area del Gurgo, che poi si rifugiò nella vicina Andria per sfuggire agli assalti dei predoni nel corso del Medioevo. Lavori di restauro affidati, anche in questo caso, allo studio che ha sede ad Andria. Tornando al dipinto del Santissimo Salvatore, che è nel cuore dei fedeli, come testimoni alla mobilitazione popolare che ha consentito il suo recupero, versava, si legge nella relazione dei restauratori, in un precario stato di conservazione. La pellicola pittorica presentava problemi di disidratazione e pesanti ridipinture, queste ultime eseguite nel corso dei decenni. Tutta la superficie pittorica era coperta da uno strato di vernice ossidata che occultava la reale cromia dell'opera. Operazione preliminare è stata quella di eseguire una prima indagine con lampada di Wood per individuare le ridipinture presenti sulla pellicola pittorica. Successivamente si è proceduto con i preliminari saggi di pulitura al fine di individuare i solventi idonei da utilizzare e rimuovere gli strati di depositi secchi e grassi. Dopo aver completato la pulitura, il dipinto è stato protetto da una velina giapponese per procedere alla pulitura dal retro. Una volta rimossa la velinatura, si è proceduto con la realizzazione di stuccature con gesso di bologna e colla di coniglio, laddove necessario, ovvero nelle parti in cui sono state rimosse le ridipinture e dove la pellicola pittorica era abrasa. Infine, in accordo con l'alta sorveglianza, sono state eseguite le integrazioni pittoriche utilizzando colori ad acquerello, dati a velatura e rifinite a vernice con la tecnica del tratteggio. L'intera superficie pittorica è stata ricoperta da un velo di vernice retoucher data a spruzzo. La terra, ora, è tornata a disposizione del culto dei fedeli.